Questo video è sponsorizzato da JLC PCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. Potrete ordinare al costo di soli 2 dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli 2 giorni. Basta fare l'upload dei file Gerber sul sito, specificare i dettagli costruttivi e le quantità e attendere. Ciao a tutti, come sempre prima di iniziare un saluto a un nuovo Patrons che ha raggiunto la nostra comunità di elettronici entusiasti. Ciao a Vittorio, grazie per il tuo supporto. Vediamo il video di questa sera. Ricevo da Giacomo di Teramo questo pacco contenente un amplificatore in 100 Watt realizzato a MOSFET dalla gloriosa rivista Nuova Elettronica Progetto LX1650. Giacomo ci dice che i finali a MOSFET saltano, ha provato a farlo riparare a un laboratorio ma il problema permane. E quindi cerchiamo di capire se riusciamo a risolvere il problema e con l'occasione ristudiamo questo schema. Per cui, buona visione! Andiamo ad aprire il pacco. Allora, direi che abbiamo... questo dovrebbe essere l'articolo della rivista di Nuova Elettronica. Ok. Poi abbiamo una lettera. Andiamo a leggerla. Ciao! Grazie per aver accettato il mio finale. Se possibile vorrei sistemarlo. Al momento il problema riguarda solo uno dei due canali. Brucia i due fusibili di protezione sulla basetta di alimentazione. Sono stati già cambiati tutti i FET e qualche altro componente. Nella bustina trovi dei nuovi e anche quelli che sono stati sostituiti. Il finale non ha regolazione di volume in ingresso-uscita, quindi lavora al 100%. Quando era ancora aperta Nuova Elettronica lo mandai anche al loro laboratorio, che dovrebbero averlo revisionato e controllato, ma comunque brucia i fusibili. Temo un problema di realizzazione della basetta. Però non voglio portarti fuori pista perché sono supposizioni. Intanto ti ringrazio per la disponibilità e incrocio le dita. Saluti, Giacomo. Ecco qua, l'Hi-Fi Stereo Amplifier 100 più 100 Watt di nuova elettronica, realizzato a MOSFET. Prima di aprirlo diamo un'occhiata veloce all'articolo, così guardiamo lo schema e almeno vediamo la topologia che è stata utilizzata per questo amplificatore. Partendo dall'ingresso, il segnale in bassa frequenza viene prelevato da questo connettore e incontra subito un filtro passa basso, un filtro passa alto per rimuovere le componenti non desiderate. Si entra poi nel gate di questo FET FT1 che insieme a FT4 costituisce un amplificatore differenziale che viene caricato da un generatore di corrente costante a specchio realizzato da FT2 ed FT3, i quali hanno il gate collegato a questo diodo zener. Quindi c'è un generatore di corrente costante e il segnale viene reso disponibile direttamente sui drain di FT2 qui e di FT3 qua. Dopo questo primo blocco di guadagno ne abbiamo un altro di media potenza realizzato da questi quattro MOSFET. Lo schema ancora una volta ha un amplificatore differenziale realizzato da MFT1 e MFT2 e caricato a sua volta da un generatore di corrente costante sempre a specchio fatto con MFT3 e MFT4. Questo stadio amplificatore differenziale pilota poi i finali che sono organizzati in parallelo, quindi c'è la coppia superiore MFT5 e MFT6 che provvede all'amplificazione delle semionde positive. Viceversa la coppia MFT7 e MFT8 provvede all'amplificazione delle semionde negative. Qui sull'uscita abbiamo un po' di filtraggio e un relais per l'abilitazione dell'altoparlante. Infatti questo amplificatore è dotato anche di protezione contro la generazione di componenti continue dannose per l'altoparlante e circuito anti-bump. Questo relais infatti viene gestito da un'altra rete che si preoccupa all'avvio, all'accensione, di ritardare di circa 10 secondi la connessione dell'altoparlante con l'amplificatore e in caso di tensioni appunto continue prevede lo sgancio sempre dell'altoparlante. Dall'uscita poi viene prelevata una quota parte del segnale tramite questi componenti e viene riportata a FT4 per eseguire una controreazione. Il relais di protezione all'accensione dell'amplificatore risulta essere subito eccitato. Infatti la sua bobina che è collegata fra la massa e il positivo di questo ponte e condensatore tramite il transistor TR2 è eccitata. Questa situazione permane fin quanto questo condensatore C28 non si carica tramite questa resistenza ha un potenziale tale da spegnere TR1. Se si spegne TR1 si spegne anche TR2. A questo punto il relais si diseccita e l'altoparlante si può collegare all'amplificatore. Questa costante di tempo vale circa 10 secondi. Questa situazione di eccitazione del relais che appunto stacca l'altoparlante dell'amplificatore si verifica anche quando la tensione di uscita assume un valore in continua positivo o negativo sopra un certo valore. Infatti vedete che questo nodo viene riportato tramite questo partitore a questi due transistor che intervengono per tensioni superiori a 0,6 volt nel caso di questo NPN o inferiori a meno 0,6 volt questo PNP. Nel caso che questi due intervengano si va in protezione. Andiamo a rimuovere le quattro viti del pannello superiore. ecco all'interno abbiamo anche la busta con immagino componenti si mosfet e componenti vari. Qua abbiamo il trasformatore che preleva la 230 volt e crea la tensione duale più e meno 40 volt alternati che finisce su questo stadio di alimentazione che ha un ponte raddrizzatore, i condensatori di livellamento e va a fornire le tensioni a i due canali che sono organizzati in maniera simmetrica con lo stesso circuito stampato e vedete che ci sono i finali qua sulle pareti laterali che fungono poi da dissipatore. A livello di connessioni sul pannello posteriore abbiamo gli ingressi e le uscite per i due canali e l'ingresso della 2 e 30. Con il multimetro in continuità andiamo a verificare i quattro fusibili prima questi qua sulla sinistra vediamo questo è buono e questo è buono quindi questo canale sembra essere ok qua sono anneriti e quindi vediamo se sono in continuità no questo è interrotto vediamo quest'altro ecco no anche questo è interrotto in realtà sul corpo del fusibile è marcata la scritta ko facciamo un test sul canale sinistro che è quello che dovrebbe essere funzionante quindi 100 hertz diamo un livello molto basso perché non ha controllo volume quindi lui tutto quello che ha lo darà 20 millivolt rms diamo tensione la nostra cassa da battaglia accendiamo l'interruttore posto sul frontale dopo qualche secondo dovrebbe partire eccolo ok andiamo un po su in frequenza ok quindi in effetti il canale sinistro sembra essere funzionante ora quello che potremmo fare è invece di andare a inserire dei fusibili sul canale destro andiamo a mettere delle resistenze in serie così vedremo effettivamente se abbiamo una corrente esagerata che scorre verso i finali oppure se è una corrente nominale in questa maniera non andremo a bruciare i fusibili perché poi giacomo ci ha detto che ha provato a sostituirli e si bruciano quindi andiamo a vedere effettivamente cosa accade prima di fare qualsiasi operazione visto che l'abbiamo messo in funzione ricordiamoci sempre di scaricare le capacità perché potrebbe anche essere che effettivamente se c'è stata un'anomalia e i condensatori erano ancora carichi andando a inserire i fusibili così subito con condensatore carico potrebbe essere una delle cause della bruciatura fusibile questo sarebbe il caso molto fortunato e comunque adesso andiamo a vedere che tensione rimane e la scarichiamo con una piccola resistenza ci posizioniamo prima del fusibile quindi la massa è il nero andiamo a vedere su questa retta del fusibile meno 14 più 12 sono ancora carichi quindi li andiamo a scaricare con una piccola resistenza nelle caratteristiche vediamo che la corrente a 100 watt sarebbe un ampere 6 quella di rimposo dovrebbe essere 100 milliampere considerato che stiamo alimentando a più e meno 55 volt potremmo mettere una resistenza da una cinquantina di ohm con vattaggio adeguato per vedere effettivamente nel caso che fosse in corto ce ne renderemo subito conto ed eviteremo dei danni vado a saldare una resistenza da 50 ohm 10 watt sul fusibile interrotto in modo che i due reofori tocchino le due capocchi del fusibile in questa maniera potrò inserire il fusibile che è interrotto ma mi farà da supporto per la resistenza serie siamo pronti per inserire le resistenze fusibile ho inserito le resistenze fusibile ho collegato due multimetri e siccome sono 50 ohm se le cose vanno bene dovremmo leggere al massimo 5 volt che è la caduta appunto di 100 milliampere su 50 ohm viceversa se il valore sarà superiore a 5 volt andremo a spegnere subito perché c'è qualcosa che non va siamo pronti diamo tensione 51 come vedete abbiamo un ampere letto sui due multimetri quindi effettivamente qua abbiamo i finali che i finali o comunque c'è una rete che assorbe troppo a corrente tra l'altro 51 volt caduti su queste resistenze significa che abbiamo proprio un corto in uscita inoltre considerate che questo avviene appena accendiamo quindi non c'è questione del relè che si accende non si accende qua appena diamo tensione abbiamo questa corrente di un ampere che circola sui due rami positivi e negativi su queste resistenze quindi sono passati per pochissimo tempo 50 watt quindi è una condizione che può durare veramente poco perché la resistenza è da 10 watt e quindi bisogna essere molto rapidi per fare un paragone ho posizionato le resistenze fusibile sul canale sinistro teniamo sott'occhio la tensione accendiamo vedete qua le tensioni sono molto più basse quindi grosso modo un volt che con 50 ohm sono addirittura meno di 100 miliampere a riposo quindi sono correnti normali di polarizzazione di un canale che non sta funzionando con il multimetro in modalità prova aggiunzione andiamo a vedere i quattro finali quindi mettiamo il terminale rosso sul source terminale nero sulla vite che è il drain questo direi che in corto questo qua in parallelo quindi ok vediamo questi altri due no qua il diodo lo vede e quindi lo vedrà anche qua perché è in parallelo esatto quindi questi due mosfet vediamo il diodo qua invece vediamo un corto i mosfet in corto sono le mft 7 mft 8 che sono degli rf 95 30 andiamo a smontarli ho svitato tutti i mosfet adesso abbiamo accesso alla schedina per cui potremo andare a dissaldare questi due tra l'altro noto che qui sotto sul lato saldature abbiamo saldati direi probabilmente dei dio di zener a protezione vista la zona in cui si trovano protezione del gate ma dopo lo verifichiamo ho rimosso mf 8 andiamo a cercare il diodo fra drain e source perché questo ricordiamoci che è un mosfet tipo p il diodo qua c'è quindi questo mosfet sembra essere buono questo è il mosfet 7 se mettiamo il terminale sul drain vediamo che troviamo corto anche con il gate e con il source una cosa che però non mi piace per niente guardate il lato saldature qua c'è molta sporcizia qua c'è molta sporcizia io non vorrei che ci sia un problema di questo tipo è che sia semplicemente un discorso di un residuo conduttivo adesso aspetta che andiamo a pulire poi rifacciamo la misura con un po di alcol isopropilico andiamo a togliere tutti questi residui grattando bene e lasciando solo lo stagno ripetiamo la misura ma no è proprio in corto mi sembrava strano vediamo qua a banco il 7 e in corto il drain sia col gate che col source quindi ok questo è sicuramente andato l'altro però era buono essendo in parallelo quindi vedevamo la bassa resistenza prima in questa situazione dove ho rimosso i due mosfet bassi e gli altri non risultano essere in corto andiamo a rimettere le due resistenze fusibile sul canale destro teniamo sott'occhio le tensioni continue e vediamo se abbiamo ancora questo mega assorbimento in corrente 1 2 3 2 volte 3 2 volte 1 quindi vedete che è un po più alta del canale sinistro però siamo a valori assolutamente tranquilli perché la caduta su 50 ohm appunto 2.3 volte significa che siamo sui 50 60 miliampere non di più ho sostituito mft 7 con un transistor mosfet nuovo e invece mft 8 ho lasciato quello originale perché comunque avevamo visto a banco che era buono sempre con le resistenze fusibile diamo tensione e vediamo cosa succede con questi mosfet inseriti diamo tensione 34 34 no decisamente non va quindi i mosfet sono buoni non sono saltati però sono pilotati in una maniera che assorbono troppa corrente in queste condizioni di sovraccarico non possiamo andare a vedere i segnali per non rischiare di bruciare i mosfet andiamo a vedere lo stadio precedente quello fatto da questi quattro mosfet tramite multimetro vediamo se riusciamo a vedere i diodi di giunzione dei quattro mosfet si tratta di questi quattro componenti che hanno un package particolare un hv m dip e quindi andremo a vedere i loro pin lato saldature controlliamo da prima questi due allora il drain è in corto su questi due pin quindi metto con questo terminale in prova di di qual diodo c'è qua il diodo c'è quindi questi due sembrano essere buoni su questo mosfet non vedo il diodo quindi non vedo il diodo di questo mft 1 che fa parte dell'amplificatore differenziale questo è un transistor a canale p è sempre in package hv m dip quindi andiamo a togliere la letta e andiamo di saldarlo il transistor sospetto si trova qui sotto questo qui questo mosfet l'irf 91 10 non sembra essere rotto ma piuttosto in perdita se vado fra il drain e il source ho 0 96 di giunzione se lo carico quindi vado a mettere visto che un canale p il positivo sul source e negativo sul gate adesso dovrei averlo acceso e quindi in teoria il canale fra drain e source ecco vedete che si è aperto quindi si accende si spegne però potrebbe essere in perdita difatti sui nuovi la giunzione del diodo risulta essere di valore più elevato 1 0 79 e anche gli altri campioni nuovi che ho hanno tutti questo valore invece questo dei valori più bassi se accendo in queste condizioni senza quel mosfet pilota vedete che gli assorbimenti sono bassi infatti sulle resistenze fusibile leggo un volte qualcosa per capire come mai abbiamo questa corrente che attraversa i finali alzo le quattro resistenze di gate che comandano i mosfet in questa maniera mi aspetto che non venga richiamata grande corrente dall'alimentazione e così potrò andare a verificare il segnale di comando dei quattro finali aprendo le resistenze di gate ci si immagina che i mosfet non siano comandati la cosa strana che succede che se alimento vado ad assorbire molta corrente sul ramo negativo ho tolto il mosfet mft 8 quindi l'altro mosfet p quello che era buono e la cosa ancora permane anche togliendo mft 8 abbiamo comunque della corrente che circola andiamo a rimuovere per il momento questa serie di quattro di odi che è stata aggiunta a protezione dei gate quindi gli andiamo a rimuovere un attimo per vedere se hanno effetto si tratta di questi quattro di odi qua vado ad alzare anche questa r13 in modo che così interrompo la corrente che possa eventualmente circolare su questo ramo dato da questi quattro mosfet se invece alzo questa r23 che in serie a questo transistor che è rimasto la corrente non è più in corto circuito quindi interrompo effettivamente questa circolazione di corrente quindi questo mi fa pensare che questo mosfet è in corto anche se andandolo a testare con il multimetro non sembrava in corto circuito ripetiamo il test sul nostro mosfet fra drain e source corto circuito ecco perché avevamo questa corrente così elevata per poter lavorare meglio e prendere delle misure ho fatto dei rimandi con i fili e ho messo qua in morsettiera in modo che così posso portare le tre alimentazioni la 10 volta alternata che serve per la protezione e al momento ho staccato l'uscita e l'ingresso tanto siamo ancora in una fase di indagine sull'alimentazione senza mosfet a canale p montati vado a misurare la tensione di gate con l'oscilloscopio e scopro una brutta cosa vale 40 volte rispetto alla massa questo spiega perché i mosfet si rompono così velocemente perché il gate viene assolutamente subito perforato quindi cerchiamo di capire cosa è successo allo stadio che pilota il gate di questi transistor stiamo dicendo che questo nodo che è attaccato ai gate di questi mosfet è andato a più 55 volte anzi più 40 scusate rispetto alla massa quindi invece di starsene buono in zona 0 che sarebbe la condizione per cui questi mosfet sono spenti è volato positivo verso l'alimentazione il problema potrebbe essere in questo specchio di corrente questo è un generatore di corrente costante che quindi facendo circolare corrente su r14 che è il potenziometro di taratura del punto di riposo porta questa tensione a una tensione tale da polarizzare i finali se questo nodo è andato alla positiva questi due non stanno lavorando bene per cui li sostituisco ecco rimossi i nostri due mosfet andiamo a pulire le pad con la treccina e poi andiamo a sostituirli considerato che questo stadio è molto delicato e che ho già sostituito un mosfet ho preferito utilizzare quattro zoccoli ricavati da zoccoli normali semplicemente tagliandoli in modo che così potrò sostituire tutti e quattro i mosfet e anche in caso di prove che provocano la rottura li riusciamo a cambiare facilmente la cosa importante che sono tutti a livello perché questo zoccolo ha alzato il livello ma saranno tutti alla stessa altezza per poter inserire poi il dissipatore in modo che questo poi faccia contatto bene in maniera uniforme su tutti e quattro i componenti ecco in pista i nostri quattro mosfet quindi abbiamo gli rfd 91 10 che sono i due mosfet a canale p dell'amplificatore differenziale e gli rfd 110 che invece sono i mosfet a canale n dello specchio di corrente su questa parte di circuito c'è qualcosa che non va quindi bagniamo con alcol per vedere chi di questi scalda allora qua rimane bagnato 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 è questo è questo è bollente questo è bollente e questo è molto caldo quindi questo ramo è diciamo fuori dal normale questo invece sembrerebbe essere tutto sommato normale ovviamente stiamo operando senza dissipatore però mi sembra una temperatura un po eccessiva e con questo termina la prima puntata del video riparazione su questo amplificatore 100 più 100 watt a mosfet di nuova elettronica siamo riusciti a limitare la corrente di cortocircuito con delle resistenze serie questo ci ha permesso di identificare un errato pilotaggio dello stadio finale infatti lo troviamo completamente sbilanciato per proseguire adesso è necessario fare delle misure puntuali ragionare sullo schema e cercare di capire il motivo per cui abbiamo questo sbilanciamento come sempre se il video vi è piaciuto vi è stato utile un bel pollice in su noi ci vediamo domenica prossima per la seconda e ultima parte ciao 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 ciao